Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guertz e di Flavio, ciao a tutti. Due telefoni per due persone quest'oggi, infatti abbiamo tra le nostre mani OnePlus 9, nel caso di Flavio, e OnePlus 9 Pro, nel mio caso. Quindi abbiamo potuto testare con tutta la calma del caso questi due nuovi smartphone che OnePlus ha presentato nell'ultime ore. Quindi abbiamo i due smartphone per eccellenza dell'azienda, gli ultimi due arrivati e oggi vi raccontiamo un po' come vanno nel quotidiano questi due prodotti. Come sempre ragazzi qua sotto, noi non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, ma voi iniziate a chiacchierare tanto nel box dei commenti, condividete il video, iscrivetevi e schiacciate un bel like che serve per supportare tutto il nostro lavoro. Abbiamo voluto unire questi due modelli perché fondamentalmente, come abbiamo detto, si assomigliano molto, entrambi hanno lo Snapdragon 888, ma hanno delle principali e sottile differenze che vi possono ovviamente far scegliere per uno o per l'altro. Iniziamo ad analizzare le principali differenze tra questi due smartphone. Allora, prima di tutto il display. Flat nel OnePlus 9 che ha utilizzato Flavio e curvo nel mio caso, quindi nel OnePlus 9 Pro. 6.55 nel caso di Flavio, 6.7 invece in OnePlus 9 Pro. Però le differenze tecnicamente, oltre al fatto che uno è curvo e l'altro è piatto, è che il display di OnePlus 9 Pro ha una qualità superiore. 10 bit, nonché un display Q e CD Plus. Amoled di tipo LTPO, quindi il top del top che OnePlus ha potuto mettere su questo 9 Pro. Perché ricordiamo che grazie a questa tecnologia il refresh rate può passare da valori molto bassi a valori fino ai 120 Hz per risparmiare batteria senza che questo vada a influire sull'esperienza d'uso. Perché noi non ce ne accorgiamo. La batteria, fortunatamente sì. Sì, esattamente. Durante il briefing con OnePlus ci hanno spiegato come proprio questo refresh rate vada da 1 Hz a 120. Quindi abbiamo appunto questa possibilità grazie alla tecnologia LTPO. Per quanto riguarda il display, vi parlo del mio caso, è un display che si vede bene sotto l'ocerezza del sole, è un display che può essere tarato ma come anche quello del OnePlus 9 tramite le impostazioni. Devo dire che arriva fino a 1300 nit e abituato ad S21 Ultra ho notato questi 200 nit in meno. Quindi sotto proprio luce piena si vede bene, non sto dicendo questo, ma sottolineo il fatto che qualcuno fa anche di più. Sì, anche nel mio caso stesse sensazioni. Se lo paragoni con i telefoni con una luminosità veramente altissima come il Mi 11, come S21 Ultra, lo stacco un pochino si nota, però parliamo veramente di dettagli. Cioè sono veramente cose per gente fissata come noi. Lo fai vedere a qualsiasi altra persona, rimane a bocca aperta vedendo un display del genere, perché i colori sono veramente molto belli. Si vede bene, ottima nitidezza e il Full HD Plus montato sul 9, secondo me basta e avanza. Per un prodotto di questo tipo niente da dire sul display proprio. Per farvi anche un paragone, paragono questo display di OnePlus 9 Pro a Oppo Find X3 Pro. Quindi lo sto paragonando al top di gamma di Oppo, non è appunto un display sottotono. Anzi, i contenuti multimediali si vedano bene, audio stereo in entrambi gli smartphone, condiviso con capsule auricolari. Per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti multimediali, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Fondamentale ricezione parte telefonica. Gli smartphone sono 5G, nel mio caso ha preso bene. Dopo l'update ha funzionato bene anche il Wi-Fi, avevamo un problemino sul Wi-Fi. Si sganciava da solo, praticamente anche a dispositivo spento. OnePlus, prima della recensione, ha fatto arrivare un update sia nel mio smartphone che in quello di Flavio. E dopo l'update adesso gira tutto al meglio. L'interlocutore ci ha sempre sentito bene. Comunque ragazzi, sono smartphone top. Quindi essendo smartphone top, si presume che almeno la ricezione parte telefonica dovrebbe andare al top. Io l'ho provato con Vodafone e devo dire assolutamente, l'unico posto che ve non prendo è dentro casa mia. Quindi tutto regolare, insomma, tutto come deve essere. Feedback haptico su entrambi gli smartphone. Digitazione perfetta. Questo andava come un treno l'altro giorno, lo guardavo scrivere veramente con il OnePlus. Si scrive con una maniera incredibile. Sì, chi ha avuto problemi in passato con OnePlus 6, OnePlus 7T? Io. Questo è solo un lontano ricordo. La digitazione è velocissima, il touch è molto preciso. Si scrive veramente bene. E il feedback haptico, che non è la prima volta ovviamente per OnePlus, però aiuta tantissimo. Vero o no? Che tornare ad una vibrazione tradizionale non ce la fai. Cioè, metto giù il telefono, te lo giuro. Un'altra cosa che abbiamo voluto chiedere a OnePlus è perché un sensore di sblocco così in basso, proprio nell'utilizzo quotidiano. Perché hanno fatto questa scelta? Il sensore è stato spostato, come anche in Oppo, molto in basso. OnePlus ci ha spiegato per una loro filosofia, o meglio per continuare la loro filosofia, dell'utilizzo con una mano. Infatti dopo un po', se noti, è molto più comodo averlo qua in basso, perché il dito casca in quella zona. Sessore tra l'altro veloce e preciso, anche col mio dito debole che è al sinistro. Benissimo. Per quanto riguarda batteria, allora ragazzi, abbiamo una 4500 mAh sul OnePlus 9. La stessa identica batteria è stata montata anche sul 9 Pro. C'è però una particolarità, c'è una differenza, che è la ricarica rapida wireless. Ricarica wireless che nel OnePlus 9 arriva fino a 15 Watt, mentre nel OnePlus 9 Pro arriva fino a 50 Watt. Compatibile la 65 Watt su entrambi gli smartphone. Batteria, allora, c'è un po' di alta allenanza lato autonomia. Primi giorni la batteria era un disastro. Sì, ti ricordi il mio primo giorno? Mi ricordo. Non potevamo dirvi niente, ma sia io che Flavio non arrivavamo a sera con circa 3 ore di display. 3 ore e mezzo nel mio caso. Quindi all'inizio, ai ai ai. Però è anche il bello delle prove. Arrivati gli aggiornamenti, si è stabilizzato un po' lo Snapdragon 888, magari ha fatto il suo corso. Adesso nel mio caso riesco ad arrivare tranquillamente alle 5 ore e 30 con 120 Hz. Io infatti sono arrivato più o meno intorno alle 6 ore in media con utilizzo misto, quindi qualcosa di più se ero a casa non fare niente, qualcosa di meno fuori all'aperto in piena connettività 4G, quindi direi bene. Sì. Poi non scalda. Bravo, sto per dire la stessa cosa. Non scalda neanche sotto stress, se non dopo sessioni di gioco, benchmark, quelle cose che facciamo solo noi per provarlo, insomma. Però non scalda e è sempre molto reattivo. È una cosa che mi ha colpito. Non è che non me l'aspettassi, però è veramente un fulmine a fare qualsiasi cosa. Come direbbe il nostro amico? Un petardo, direi. Un petardo, il buon Gesualdo direbbe un petardo. Per quanto riguarda appunto lo storaggio interno, ragazzi avete la possibilità di scegliere tra 828, 12256, i tagli classici di OnePlus, lo smartphone e il dual sim, ma vi ricordo che la memoria non si va a espandere, quindi scegliete bene il taglio di memoria all'avvio. Per quanto riguarda il telefono è fluidissimo, c'è anche poco da dire. Cioè oramai i top di gamma vanno tutti alla stessa maniera. È difficile trovare un top di gamma che arranchi nell'operazione di ambito quotidiano. E questo OnePlus 9 e 9 Pro non è esente, non sono esenti da andare veramente veramente bene. Per quanto riguarda anche l'Oxygen 11, visto non l'avevi ancora provata, mi pare, come l'hai trovata? L'avevo provata, l'avevo provata con OnePlus 8T. Ok. E all'inizio ho detto, ma questa è la One UI. Mi ci sono però abituato e devo dire che mi piace molto. A me non piace il font, è troppo light. Ma lo sai invece io ho scelto proprio, perché visto lo puoi selezionare, puoi mettere il robot oppure il One Passer Slate, io ho scelto lo Slate. Però anche il robot vorrei un font un pochino più... Ho capito, light. Dovete vedere se il font usa sull'S21 Ultra, ragazzi. Mi piacciono quei font lì. Insomma, un pochino più di grassetto ci vorrebbe nel font, soprattutto quando adesso vai a leggere sotto il sole. Comunque l'Oxygen sempre completa, possibilità di cambiare pacchetti con... Abbiamo fatto più video sul canale, quindi riprendetevi, ragazzi. Ho solo una critica da muovere. Ancora tende a chiudere in modo un po' troppo aggressivo le applicazioni e vorrei... Cioè, si può settare, quindi una volta che uno le va a settare non vengono più chiuse. Però vorrei che di default, visti i 12 GB di RAM nella versione top, vorrei che fosse un po' meno aggressiva da questo punto di vista. Ed è una cosa che accomuna un po' tutte le UI di origine cinese, insomma. Diciamo che però di base è stato fatto un ottimo lavoro, come tante integrazioni all'interno appunto di questa interfaccia. Tutti stanno aspettando, in nostro giudizio, lato foto e lato video di questi smartphone, perché OnePlus, ragazzi, per tre anni, almeno ve lo dico anche, ha fatto una collaborazione con l'Hasselblood. Una collaborazione molto importante, un brand importante, un brand prestigioso, costoso in fotografia, perché vabbè, dei tempi, dei tempi... Non so se hai notato la chicca quando scatti una fotografia, c'è il rumore dell'otturatore che è... Io sono la moda che fanno disturbare. Ah, 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 ti sei perso il rumore dell'otturatore... No, lo faccio sentire. Fallo sentire, fallo sentire. Sentela, quando scatti una foto... Aspetta, e metto il volume. Senti? Le chicche, le finezze che hanno scelto OnePlus e Hasselblood, in particolare poi abbiamo... Non è finita qui la collaborazione, è vero? No. Ci ha messo solo il suono, perché... Non è finita qui. Abbiamo anche una modalità pro, veramente pro questa volta, quindi avete tantissime funzioni. Per quanto riguarda le foto e video, ragazzi, abbiamo una 48 megapixel IMX 689 f1.8 sul OnePlus 9, 50 mega l'ultrawide IMX 766 che è condiviso anche con il 9 Pro, una monochrome da 2 megapixel e una 12 megapixel frontale. I video possono essere girati in 8K a 30 frame, oppure in 4K a 60 frame. Per quanto riguarda invece la variante Pro, abbiamo una 48 mega IMX 789, quindi il nuovo sensore di casa Sony, sempre la 50 mega 766 per quanto riguarda l'ottica grandangolare, in più abbiamo sempre la monochrome da 2 megapixel, nonché un'ottica tele f2.4 da 8 megapixel. La frontale da 16 mega, i video, possono essere girati in 8K a 30 fps, oppure, udite udite, 4K a 120 fps. Quindi è il primo smartphone Android, anzi il primo smartphone in generale, credo, se non ricordo male, che arrivi a fare un 4K a 120 fps. Quindi potete fare uno slow motion in alta risoluzione, oppure potete andare a rallentare le clip con una qualità molto elevata con questo smartphone. Foto e video, ti sono piaciuti? Molto. Io ero rimasto un po' scottato dagli ultimi OnePlus che avevo provato lato fotocamera, perché mi aspettavo sempre qualcosa di più e un po' venivo disatteso, per quanto mi fossero piaciuti i telefoni. Quindi, stavolta, devo dire, allora, il sensore che monta è lo stesso del Find X2 Pro, che ricordiamo, che scattava, insomma, delle gran belle foto. Questa collaborazione con Hasselblad, secondo me, non si è ridotta al nome, perché io ho notato veramente, nella velocità di scatto, nella resa del colore, del dettaglio, veramente qualcosa in più, rispetto al passato, ma anche rispetto a quello che mi aspettavo da un prodotto di questo tipo. È veramente molto bello, segno che gli algoritmi sono stati implementati bene e Hasselblad ha collaborato in modo attivo, no, per dare dei risultati. Prima c'era sempre quella sensazione, ad esempio, di sera o con le mezze luci, oppure nella gestione, ad esempio, non lo so, dell'illuminazione pubblica, c'era sempre qualcosa che impastava, che non andava. Ecco, stavolta tutto molto meglio, pochissimo flare, tutto molto affidabile e nel punta e scatta è costante, ecco. E altra menzione, secondo me, per la Ultra Wide, che è veramente miglioratissima. E' una delle migliori, secondo me, montate su uno smartphone. Ho notato anche, nel mio caso, una maggior precisione nella messa a fuoco, cosa che invece gli altri smartphone in alcune situazioni facevano molta fatica invece su questo telefono o meno. È arrivato un aggiornamento, come vi ho detto, negli scorsi giorni che ha modificato anche il colore della 3.3 per famosa, che c'è sul 9 Pro, che teneva molto, ma molto al rosso, ragazzi. Infatti non mi era piaciuta, l'ho segnalato a OnePlus e hanno già cercato di modificare la taratura del colore. Vi ricordo che la collaborazione durerà tre anni, quindi questo è un po' un antipasto, diciamo così, di quello che potremmo vedere e senza omdra di dubbio, secondo me, sono i migliori OnePlus lato foto e lato video e meno male, devo dire, hanno marcato uno dei punti fondamentali che effettivamente mancava nel top di gamma di OnePlus. Sono telefoni che finalmente fanno buone foto e fanno buoni video. Da qui a dire sono i migliori camera phone sul commercio, secondo me, con tutta la sincerità del caso, ancora ce ne vuole. Però sai, alla fine, se te vai a vedere i risultati nudi e crudi, parliamo veramente forse di dettagli infinitesimali. Sì, sì, no, no. Per cui non pensate che se noi diciamo che sono quasi top, non sono al primo posto, non vuol dire che i risultati siano deludenti, anzi, significa semplicemente che ci sono smartphone che addirittura fanno ancora meglio. Ma qui partiamo già da una base eccezionale per me tranquillamente nella top 5 dei camera phone che mi è capitato di provare negli ultimi mesi. Più che fanno meglio, secondo me sono più completi, che è un po' differente. Vero? Perché il far meglio, alla fine, una grande angolare, i sensori sono quelli, quindi vuoi la taratura e il colore. Però ecco, manca una periscopica, ad esempio, come è mancata sul Find X3 Pro. Quindi a livello di foto e video, ragazzi, sono ottimi prodotti. Cioè le immagini, avete viste, fanno delle ottime, ottime fotografie, soprattutto di notte, sono migliorate moltissimo. Però dobbiamo dire che a livello di completezza ci sono bei bestioni da affrontare e arriveranno ovviamente i focus dedicati, non vi preoccupate. Capitolo prezzi, ragazzi, 719 euro. Ora il prezzo base dell'828 per quanto riguarda OnePlus 9 si aggiunge 100 euro se volete la variante 12,256, 919 euro oppure 9,99, rispettivamente 828,12,256 per OnePlus 9 Pro. Prezzi giusti? Prezzi secondo me molto giusti perché entrambi i prodotti hanno senso. Le differenze di prezzo sono giustificate da quello che offre in più il Pro, ma anche chi decide di risparmiare, prendere il liscio, fa un ottimo affare perché 719 euro, paragonati anche ad altri prodotti con prestazioni analoghe e specifiche analoghe, non sono poi così tanti, possono sembrare tanti in senso assoluto. Però 719 euro, secondo me, se vi bastano i 128 giga, perché per tante persone sono sufficienti, non farei, non farei, insomma, dei 12 giga di ramo, una discriminante importante. Magari lo storage sì, per cui il 719 io ce li spenderei volentieri per un prodotto del genere. Secondo me quest'anno il 9, per come è costruito, le differenze ci sono, per carità, non sono abissali, potrebbe essere un prodottino che appena cala anche un attimino, davvero, davvero top, è difficile da abbatterlo più che altro perché sono due bei telefoni, veramente. Penso se si dovesse assestare 600, 650, diventa veramente tanta roba. Un bel prodottino, veramente un prodottino. Comunque ragazzi, queste... Guardate la colorazione viola, viola proprio cimitero. Viola fiorentina. Mamma mia. Comunque ragazzi, aspettiamo la vostra opinione qua sotto nel box dei commenti, fateci sapere cosa ne pensate di questi smartphone. E da Wertz. E da Flavio. È tutto e ci vediamo domani per un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.